Guarda la piccolina, come mi sta vicino. Carlotta, per favore, non qua vicino adesso. No, 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 no. Sono agitati, sono agitati. No, no, no. Sono agitati, sono agitati. Vieni niente, vieni niente. Vieni niente. No. Che se si spari a roto... Guarda come si fanno. E ora tirano il calcio. Perché è davvero puttoso. No, è davvero puttoso. Vieni qua, no. Vieni la cortitente, cioè. Sono pericolosi, eh. È rimasto deluso. Ha, 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 ha. Buuut, alla Cecilia. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.